Ragazzi, adesso stiamo prendendo l'ascensore perché stiamo andando verso la pista Eccoci qui che siamo proprio usciti da quella porta, quindi 2 euro il biglietto e così almeno vi facciamo vedere non solo la pista ma anche tutto questo spettacolo Eccoci qui, guardate che bello, qui le forbici giganti Una bella pianta e guardate che spettacolo che c'è qua Ecco qua Vado avanti e vediamo un po' Allora qua ci sono varie cose che potete poi bloccare l'immagine e leggerlo con calma Finna Coteca Agnelli, casa 500 E adesso vediamo quest'altro spettacolo Qui vedete che è il parco, non mi spingo troppo se non vorrei che mi cade il telefono Qui siamo nel quarto piano Quindi prima pagate il biglietto Come ripeto sono sempre 2 euro, vi danno i biglietti più altri due bollini Non so se ci sia salvo e poi per me Ed eccoci qua Allora vediamo cosa c'è dall'altra parte Tanto qua ci sono le piante Guardate qua c'è pure Questo orologio qua Con i numeri al contrario Vediamo se è così Almeno con il bastone alzato Riuscite a vedere Più in alto Non lo so Non riesco a vedere l'immagine Spero che siete riusciti a guardare qualcosa di bello E qua ci sono tutti i vari tavolini Adesso sto andando di nuovo da Manuel Perché Manuel è rimasto un po' indietro Adesso non mi vede più perché mi sono allontanato Giusto per farvi vedere le cose Poi magari ci possiamo allontanare magari dopo Più in là Però lui adesso non sa dove sono andato a finire Adesso ancora un po' E arrivo Vediamo un po' Olè Guardate che bello Così vedete anche Torino dall'alto E non solo dal basso Adesso mi sto per avvicinare sempre di più Dall'altra parte praticamente Vediamo dove si trova Manuel Perché mi ha telefonato adesso mentre stavo facendo il video Ma ho dovuto staccare un attimino Giusto perché se no Mi si interropeva il video